Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Vi portiamo con noi in questo weekend, ma principalmente proveremo la nostra nuova fotocamera, la Insta360 ONE X2. Quindi ditemi anche voi che cosa ne pensate di queste riprese, se vi piacciono, come vi sembra questa videocamera. E niente, noi siamo in viaggio, andremo a Misano Adriatico perché Giulio dovrà fare una gara con la BMW nell'autodromo di Misano Adriatico. E quindi io ho deciso di accompagnarlo, non potrò accompagnarlo nell'autodromo, ma lascerò lui la videocamera così se riuscirà a registrare qualcosa ve lo farà vedere. Mentre lui sarà all'autodromo, io probabilmente sarò spiaggiata al mare. Eccoci arrivati a Misano Adriatico, oggi alloggeremo al Ciccio Hotel. Pensate che è il primo hotel banni d'Italia. Non abbiamo capito bene in che senso, abbiamo visto sul sito però che probabilmente qui tengono i coniglietti proprio liberi. Comunque questa è la hall. Guardate che carina. Qui c'è la sala colazioni. Con tutta l'aria giochi anche per i bimbi. E uscendo dall'hotel, praticamente siamo a due passi dal mare. Non so se adesso riesco a farvelo vedere. Però laggiù c'è il mare. Saranno, boh, forse 200 metri a piedi. Che bella arietta che c'è oggi. Che bella temperatura. Eccoci al nostro piano dell'hotel. Facciamo subito un'unitura. Permesso. Ah, guarda che ci sono i tre letti. Allora, ci tengono tantissimo i coniglietti qua in questo albergo. Perché infatti, guardate che ci sono i coniglietti dappertutto. E questa è la camera piccolina, però carina. Tanto dobbiamo fare qua solo una notte. E vediamo il bagno. Qua c'è la doccia, i sanitari, ed il bagno è finito. Questo armadio. Spazioso. Qua c'è una scrivania. Qua uno specchio. E vediamo il nostro balconcino. Che meraviglia. Che temperatura oggi. Ti piace Pistarino? Bella. Ciao. Grazie a tutti 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 Un punto di partenza che è là in fondo con i due coni bianco e blu dove lui si fermerà per un attimo per farvi vedere Noi partiamo da lì questo? Sì, un approccio normale alla curva dove c'è il cono bianco e blu lì a quella terza lì e punto di accelerazione E' questo è l'obiettivo Ok, ok Grazie a tutti Ed ecco, ecco, ecco Grazie a tutti Grazie a tutti